Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbi l'al-amin, wassalatu wassalamu ala sede al-Mursalini, sede al-Muhammad wa al-Ali, wassabbi wassalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, siamo oggi qui riuniti a Tuba Fidenza, alla Casa Iser in Tuba per l'evento della Dair Ansar, Magara Dair Ansar è un evento annuale che si organizza per riunire tutti i discepoli italiani di Sheikh Madubamba per studiare insieme l'Islam. Alhamdulillah, quest'anno abbiamo anche proposto una esposizione come anche gli altri anni e per quest'anno abbiamo deciso di affrontare il tema del tawhid, quindi della unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Madubamba ha detto che l'Islam, il muridismo è l'iman basato sulla scienza del tawhid, l'Islam è basato sulla scienza del fiqh e l'ihsan è basato sulla scienza del tasawuf, quindi per quest'anno abbiamo deciso di affrontare la prima tematica, quella del tawhid. Il tawhid quindi è la scienza che ci spiega Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicità di Allah e abbiamo deciso di fare ciò perché ciò è la base dei principi basici del credo di ogni musulmano. Ogni musulmano che entra nell'Islam deve essere consapevole di chi è Allah e di chi adoriamo, non possiamo adorare Allah se non lo conosciamo. Quindi per quest'anno abbiamo deciso di affrontare questa tematica, quindi che spiega Allah, ilahi, l'Allah, Muhammad o Rasulullah. La ilahi, l'Allah, quindi significa che non vi è alcun dio degno di essere adorato se non Allah. Allah è l'unica realtà e Muhammad o Rasulullah è il messaggero di Dio, il messaggero di Allah. E questo Sarintouba ha detto che il tawhid è la scienza più importante che ogni musulmano può acquisire ed è la scienza più importante che sarà di nostro beneficio nell'aldilà. Quindi per quest'anno abbiamo deciso di affrontare questo tema e abbiamo tradotto anche un'opera di Sheikh Madhub Bamba che si chiama Aqida tu Sheikhul Khadim. Aqida appunto significa il credo e come possiamo vedere Sheikh Madhub Bamba in pochissime pagine, un testo molto breve, ha specificato perfettamente in cosa dobbiamo credere. Quindi bisogna credere che Allah esiste e la prova dell'esistenza di Allah è la sua creazione. Infatti non possono esserci delle creature senza un creatore. Allah è al di sopra di ogni definizione ma possiamo definire Allah per comprenderlo come colui che è indipendente da tutto e tutti e tutti sono dipendenti ad Allah. E quindi Allah non è una necessità, l'esistenza di Allah è una necessità per l'intera creazione e Allah è a conoscenza di tutto ciò che compiamo. Prima che noi possiamo, prima di aver compiuto le azioni, addirittura prima dell'intera creazione, Allah conosceva cosa sarebbe successo. Infatti si dice che Allah è il primo e l'ultimo, cioè è pre-eterno, cioè che non è il primo senza alcun inizio ed è eterno perché è l'ultimo senza fine. Prima della creazione Allah esisteva e quando la creazione cesserà di esistere Allah sarà sempre esistente. E questo è quello un po' delle basi del Tawahid. Il Tawahid poi si espleta anche in sei articoli della fede, quindi credere in Dio, credere negli angeli, credere nei libri rivelati, credere nei profeti, credere nel giorno del giudizio e credere nel decreto di Allah, nella predestinazione sia che sia positiva che negativa. Questi sono i sei articoli della fede che vengono perfettamente spiegati da Sheikh Madhubamba in quest'opera. E poi se intubare verso la fine ci dà alcuni consigli fondamentali anche in questa epoca, infatti ci dà alcune spiegazioni anche di alcuni versi del Corano. Ci sono alcuni versi del Corano che non possono essere interpretati letteralmente e questo Sheikh Madhubamba lo spiega perfettamente. Cioè per esempio quando nel Corano c'è scritto che Allah è sul trono, quando si parla del viso di Allah o delle mani di Allah, Sheikh Madhubamba dice che non dobbiamo prendere tali versi come letteralmente, ma come delle metafore per farci capire determinati concetti. E poi ci spiega appunto che dobbiamo credere in tutti i profeti e qual è il giusto credo nei profeti. Da musulmani crediamo che i profeti siano esenti da peccati, sia prima che dopo la rivelazione, ma che sono esseri umani come tutti. Quindi possono contrarre il matrimonio, possono ammalarsi, possono lavorare. E questo quando i profeti compiono ciò, li eleva, diciamo si elevano spiritualmente e si avvicinano alla subhanahu wa ta'ala. E poi c'è Khundubamba verso la fine di questa opera, ci dà anche informazioni sui sahaba. Questa è un'opera breve, ma che tutti i musulmani dovrebbero, devono necessariamente conoscere. E necessariamente conoscere. Quindi per questo abbiamo deciso di, quest'anno, di affrontare questa tematica. E poi chiunque voglia espandere la comprensione di tali concetti può mettersi in contatto con la Dairanzar. E alla nostra pagina Facebook, che è Dairanzar, o a Tuba Italia. Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione. O anche potete contattare il nostro Jorin, Jorin by, per essere inseriti nel nostro gruppo di Whatsapp. In cui giornalmente o settimanalmente rispondiamo a delle domande dei fratelli e sorelle. O diamo delle spiegazioni sulla nostra religione. Speriamo di incontrarvi tutti presto. Grazie mille. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vi spiegherò brevemente cosa abbiamo esposto dentro i pannelli. Qui parliamo di che cos'è la Dairanzar e perché è stata fondata. Noi sappiamo che nei paesi occidentali non è facile venire a conoscenza del messaggio dell'Islam. Tutto quello che noi apprendiamo in Occidente è quello che vediamo in televisione, è quello che ci viene detto. Ma non abbiamo un'educazione nella religione musulmana. Quindi per questa ragione e anche per un dialogo interreligioso, Serin Murtalà, che è un figlio di Serin Tuba, la nostra guida spirituale, si recava nei paesi occidentali per poter spiegare che cos'era veramente l'Islam, così come è stato rivelato nel tempo del profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam. Ed è proprio Serin Murtalà che ha dato una spinta a questa necessità, che è nata da due fratelli, Baigin Baig e Begfalu, di radunare gli italiani e gli occidentali che volevano apprendere l'Islam in un gruppo di fratelli per poter dedicarsi allo studio della religione musulmana. Per quale motivo? La nostra Daira si chiama Dair Ansar. Chi erano gli Ansar? Gli Ansar erano gli abitanti di Medina, erano coloro che appartenevano alle famiglie di Ausu e Ashrai. E sono coloro che hanno accolto il profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, quando è stato esiliato dalla Mecca e si è recato prima in Etiopia e dopo nella città di Taif, dalla quale è stato cacciato. Perché noi sappiamo che, come oggi, ai tempi del profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, l'Islam non veniva accettato, non c'era la possibilità di accettare questa religione. Quindi quando lui si è recato presso gli Ansar, gli Ansar lo hanno accolto, hanno accolto il profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, e i suoi compagni, Muajirin. Il nome Ansar è stato dato direttamente da Allah, infatti viene citato nel Corano. Le caratteristiche di questa gente erano soprattutto l'onestà e la condivisione, perché loro condividevano tutto, c'era un vero clima di fratellanza, condividevano il cibo, le abitazioni, il denaro. E questo è il modello al quale noi cerchiamo di aspirare, anche se diciamo che è una nostra aspirazione, non è facile. La Dair Ansar è stata fondata appunto da Mbai Gimbai e da Begfalu, che noi conosciamo appunto come il nome di Begfalu. E il motivo che ci ha spinti a questa necessità è stato il desiderio appunto di raggruppare i nuovi convertiti all'Islam, perché spesso succedeva che chi entrava nell'Islam gli mancava proprio il sostegno e la vicinanza degli altri fratelli, quindi a volte uscivano dalla religione musulmana, o a volte smettevano proprio di credere. Il nome invece è stato Ansar, è stato attribuito alla Daira da Selim Amorambake l'11 maggio del 2012, che è un figlio di Selim Amorambake. Ora andiamo a vedere brevemente per quale motivo c'è una piccola, sì, c'è una piccola... Ah, dimenticavo. Questa è la Dair Ansar, la Dair Ansar è la prima Daira che ha preso il nome Ansar e che è composta non solo da senegalesi, ma anche da occidentali. E questa necessità è nata da una preghiera che è Serintuba, nella quale Serintuba chiede ad Allah di darmi aiuto nelle terre degli stranieri, degli occidentali. Il motivo che differenzia la Dair Ansar dagli altri Daira è il motivo di partenza che ci ha spinti a radunarci. Non è una Daira che possiede una cassa comune, dei fondi economici, ma nel momento in cui c'è bisogno, c'è una necessità, i fratelli si ritrovano per aiutare chi ha bisogno. Quindi la maggior parte del lavoro che la Daira fa si occupa dell'istruzione e dell'educazione dell'Islam, quindi di fornire materiale in lingua italiana o in lingua inglese, in lingua francese, nelle lingue di coloro che vivono nei paesi stranieri. Questo è oltre all'arabo, l'originale ovviamente. Vi ringrazio tutti e vi ringrazio molto per l'ascolto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In questa seconda parte dell'esposizione, come abbiamo deciso di affrontare poi l'altra parte dell'Islam, come abbiamo detto l'Islam è composto dall'Iman, l'Islam e l'Ihsan. E qui in questa parte dell'esposizione spieghiamo quali sono i cinque pilastri dell'Islam, credere in Dio nel messaggero di Allah, pregare le cinque preghiere canoniche giornaliere, rigiunare nel mese del Ramadan, donare il zakat annualmente. E poi il quinto è di compiere il pellegrinaggio alla Mecca nel caso in cui si abbiano le possibilità economiche e fisiche per poterlo compiere. E poi in questa seconda parte abbiamo deciso di affrontare un tema fondamentale che per tutti i musulmani è appunto quello del pentimento, la tauba, è appunto quello di tornare ad Allah subhanahu wa ta'ala con un pentimento sincero. Questo è l'inizio del cammino di ogni musulmano. E quindi le condizioni di questa tauba è quello di avere il rimorso di aver compiuto un peccato, avere l'intenzione di non ricommetterlo, smettere immediatamente di compiere tale azione e chiedere il perdono ad Allah. Ci sono delle condizioni che bisogna seguire e adempiere affinché tale pentimento sia sincero ed accettato da Allah subhanahu wa ta'ala. In questo poi, nelle altre tre due cartelli dell'esposizione, abbiamo deciso di affrontare il tema dell'Ihsan. L'Ihsan, come abbiamo detto, si riferisce alla perfezione spirituale e la definizione dell'Ihsan, data dal profeta Muhammad, è di adorare Allah come se potessimo vederlo, ma se non siamo in grado di fare ciò, essere certi che Allah ci vede. Quindi l'Ihsan si riferisce a tutte le regole, alle virtù, alle regole morali, ai valori che rendano perfetta la nostra adorazione. Quindi adorare Allah e comportarci bene con noi stessi e con gli altri. E quindi cercare di, in ogni momento, adorare Allah e compiere delle azioni che siano amate da Allah. Quindi utilizzare, per esempio, proferie solamente delle parole rette e non proferire delle oscenità, comportarsi sempre nella maniera corretta con gli altri, essere gentili e voler sempre il bene per gli altri. Il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mi disse che un credente diventerà un vero credente nel momento in cui desidera per gli altri, per i propri fratelli e sorelle, ciò che desidera per se stesso. E viene spiegato che, in questo caso, fratelli e sorelle, ha un'accezione generica, cioè fratelli e sorelle nell'umanità. Dobbiamo rispettare tutti, sia musulmani che non, e comportarci sempre nel migliore dei modi. E questa è la sintesi dell'Ihsan ed è come Serin Tuba ha spiegato la sua via, la via del muridismo, che quindi, ripetiamo, è l'Iman, spiegato dal Tauhid, dalla scienza dell'unicità di Allah, l'Islam, spiegato dal Firq, e l'Ihsan, il perfezionamento spirituale, basato su questa scienza, chiamata il Tassawuf, che ci permette di vivere in secondo, appunto, alla volontà divina, nel migliore dei modi, affinché possiamo ottenere la felicità in questa via, in questa vita e nella prossima, inshallah. Grazie a tutti. Jazakallah khairan, assalamualaikum warahmatullah. Siamo qua per celebrare una festa, diciamo, non possiamo chiamare religiosa, ma anche di condivisione, di pace. Una cosa che cerchiamo di far vedere a tutto il mondo intero, che alla fine l'Islam è la fratellanza, l'Islam è l'amore, che possiamo convivere, che sia con i musulmani, che non musulmani. E oggi voi siete fratelli italiani, che anche noi siamo qua in Italia, come voi tutti, e oggi abbiamo avuto l'occasione di ospitarvi qui, nella nostra festa di condivisione, e volevamo avere le vostre impressioni. Come vedete l'Islam? Come vedete i musulmani? In poche parole. Ma da ateo, completamente ateo, non ho visto niente di male, niente di cattivo, solamente una voglia di stare insieme e divertirsi. Ho visto che c'è gente più brutta, gente più bella. Vediamo nella televisione che i musulmani sono sempre etichettati come terroristi. tu la cosa lì la vedi in questo momento? Assolutamente no. La vedo in televisione, ma non mi sembra la realtà. Poi non so come dirlo. È la telecamera che mette soggezione. Lo so che non è facile, però abbiamo provato a spiegarti un po' la religione, come la religione musulmana. Ad esempio il fatto che l'Islam è una religione che è stata rivelata da Dio, che il Muhammed è il messaggero di Dio. Tu, secondo le cose che ti abbiamo spiegato, cosa vedi? Alla fine mi è stato insegnato il cristianesimo e mi sembra talmente tutto uguale. Mi sembra una religione unica. Quello che uno la vede sotto un modo, sotto un altro, sotto un nome, sotto un altro, però alla fine i fondamenti sono quelli lì, sono gli stessi. Quindi pensi che il problema di oggi è l'Islam? Assolutamente no. E cosa vedi nella gente che sono qui, i musulmani? Cosa vedi in loro? Qual è la cosa che ti colpisce in loro? La felicità, la tranquillità, la voglia di stare insieme e basta. Niente di negativo. E il fatto che ci siano più culture, più razze? Eh, questo non me l'aspettavo. Ho visto anche tanti italiani. Questo non me l'aspettavo mica. Però niente di male. Ognuno mi ha spiegato per come si sono convertiti, o invertiti, o come lo chiamate voi, o avvicinamento verso un dio. o niente di strano. Un piccolo riassunto sull'importanza della tawhid e la sua importanza per un musulmano. Quindi è la conoscenza, è la prima conoscenza che un musulmano deve sapere. Spiegiamo un po' la fede dell'Islamica, che cos'è come importanza. E poi, come noi, siamo al sunnah al-dama'ah. Certo. E' al sunnah al-dama'ah. Poi l'haqida del shi'ahmadu Bamba, come l'ha fatto insegnato lui. Cosa è questo? Haqida del shi'ahmadu Bamba. Haqida tu? No, haqida al-tawhid. Haqida al-tawhid del shi'ahmadu Bamba. Suoi insegnamenti? Sì, suoi insegnamenti sul tawid. Quindi ha runificato il libro di Ummul Barahim, di Imam al-Sanusi. Ummul Barahim, di Imam al-Sanusi. E poi ha commentato un libro di Ummul Barahim, di Ummul Barahim, di Ummul Barahim, di Imam al-Sanusi. L'ha tradotto tutto proprio, l'ha tradotto tutto. Dall'arabo? Dall'arabo, no. In Senegalese? No, l'ha fatto in poesia. Perché non era... In che lingua? Araba ancora. Ma sempre in arabo? Sempre in arabo, ma l'ha fatto in poesia proprio. Non era poesia prima, era vizal. Quindi l'ha fatto proprio in poesia. Il titolo del libro è? Mawahib al-Quddus. Mawahib al-Quddus. Ha fatto anche una che si chiama Faiidul Ghani il-Mughni, che era la prima parte del risale di Ibn Abi Sayyid al-Qarawaini. Al-Qarawaini? Non, Al-Qarawaini. Ha fatto... Il prima parte era sul tawahid, quindi la fati in poesia anche, dice che ha matato Faiidul Ghani il-Mughni, Faiidul Ghani, che parla sempre sul tawahid. Perché lui prende il tawahid come la prima conoscenza che ogni sui talibè deve sapere con lui. è la prima conoscenza. Dice che è la prima conoscenza che il tawahid è il tawahid. La prima obligatoria che deve fare un murid è sapere, avere la conoscenza propria, profondità di tawahid. Anche lei vuole sapere. Poi abbiamo parlato anche un po' che è uno, sapete, Abdurrahman al-Aqdari? Abdurrahman al-Aqdari. Abdali? Aqdari, aqdari. Aqdari. Si chiama Dio Harun-Nafis. La prima parte... Tutto in italiano? Si, si. La prima parte parla come deve comportarsi un musulmano. Quindi, il dov'è essere obbligatoria di un musulmano. Dio Harun-Nafis. Aqdari. Abdurrahman al-Aqdari. Il libro si chiama Aqdari. Aqdari. Noi lo prendiamo come un base. Si, si, si. Non è di Aqdari. No, non è di Aqdari. Aqdari è stato superiore? No, Aqdari, in senso, è di Aqdari scrive dei libri sul hadith proprio. Era un libro di hadith. Ma quello di Aqdari è un libro che va sul fiqh proprio, è un libro di fiqh, poi abbiamo parlato un po' di cos'è la Dair Ansar, ecco quella è la parte che spieghiamo un po' che cos'è la Dair Ansar, perché è stata il video di Srin Tuba, quello che aveva compito di divulgarsi l'Islam in Europa, tutto il mondo proprio, ma proprio tramite l'insegnamento di Ahmad Obama. Il suo padre, era il suo figlio, che era venuto sempre qua. A che periodo, quindi inizio il Novecento veniva la Dair Ansar? All'Europa. Sì, sì. Si, Ahmad Mourla arrivava qua di più, prima proprio, ma il Novecento che hanno pensato, i talib, quindi di formarsi questa Dair Ansar, di crearla, perché entravano nell'Islam, convertivano gli italiani, ma non c'è nessuno che le potevano seguirti a dargli la rete via. Quindi arrivavano a dire la shahada, la testimonia del fede, la shahada, poi scompassero, nessuno sa dove sono. Allora, il Teorin Mbai Gany Mbai è quella della responsabile, del presidente di questa Daira, Mbai Gany Mbai e Bagu Falu, hanno creato questa Daira qua, che seguiamo sempre gli italiani che sono convertiti all'Islam, a farli conoscere l'Islam proprio, tramite l'insegnamento di Shia Ahmad Bamba, ma anche creare una famiglia, proprio la fratellanza tramite loro, creare una famiglia italiana musulmana proprio, quello era l'obiettivo più importante di questa Daira. Far capire anche agli altri italiani che cos'è l'Islam, che cos'è la via contemplativa nell'Islam. Diverso da quelle che vediamo nelle televisioni, che tutti hanno paura dell'Islam e cos'è dell'Islam. Ah sì, perché poi tra di noi cerchiamo di andare d'accordo, però la cosa difficile è fuori. Ecco, è quello. Infatti, ieri abbiamo fatto un racconto con i sorelli italiani, i fratelli italiani, che non sono musulmani, che sono tante domande che sono strane proprio. Abbiamo fatto un bel discorso su queste domande, perché c'era uno che vi chiedeva che non dobbiamo parlare, sempre l'Islam, l'Islam. Dobbiamo parlare di come ci facciamo a rendere il mondo più bello, la pace, come ci facciamo, ma senza il nome dell'Islam. C'era un proprio incontro tramite For Me e quel fratello lì. Ma così bello, perché la gente tranne tanti dubbi nella loro testa, non sanno proprio cos'è l'Islam. Proprio il primo che devono fare vedere che l'Islam sono i musulmani, sono i musulmani che devono fare vedere loro che l'Islam non è quello che vediamo in televisione. Quello che vediamo in televisione è soltanto il politico, le stati che fanno queste cose lì. Non è neanche più politica, magari fosse politica vera. Non si sa più che cos'è. Eh sì, questo poi, perché abbiamo... Cosa è? Chi era un'allianza? Vedi che abbiamo fatto qua? Ah, che bravi! E questo qua è il suo raudo, dove abitava. Sì, la rauda. Sì, la rauda. C'era la moschea. Sì, la moschea. Questa qua era la camera di Sussona Aisha, Aisha era di al-Dawanda. Questa qua era la casa di... La Qibla è di qua, vero? No, la Qibla è di qua. Ah, di là? La Yusso, come lo sanno. Ah, ok, quindi c'è la rauda. Sì, la rauda di Sarif, poi la Qibla è di qua. E Dara Abi Ayub Lanzari, era il sahaba che ha ospitato il profeta quando arrivava al Medino. Quindi, perché non hanno costruito ancora la casa, la moschea, quindi da Abu Ayub Lanzari che l'hanno costruito. Qua era, dopo c'è la camera di Sussona Aisha, poi spieghiamo un po' cos'è, poi spieghiamo un po' chi erano gli anni, il sahaba. Perché è un esempio, noi siamo qua a Muhajirin, rappresentanti Muhajirin, arriviamo da un altro paese. Voi siete italiani che sono diventati musulmani, quindi, per esempio, noi siamo Muhajirin, voi siete l'hanno. E' l'hanno, l'hanno, l'hanno. E' l'hanno, 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 l'hanno. E' l'importante, siamo nella casa del profeta. La vicinanza con il profeta di Dio. Voi avete fatto il proprio haggio in tutti i sensi, vi siete spostati proprio. Poi avete, hai visto. Molti anni che sei in Italia, tu? Io sono da 2011. 2011 solo? Sì. Quali, perfetto, no, non parlo a me. No, ho fatto sempre la scuola, ma non ne ho ancora parlato bene. Sei anni, bravo. Poi questi qua sono due fondatori, che hanno fondato la Dei Ransal, Embega e Begfallu, erano qua proprio adesso. Ah sì? Che l'hanno fondato. Fondatori, ah, la Dei Ransal? Sì, 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 l'hanno fondato questi due qua. Ah, l'ho visto prima? Sì, sì, erano quattro di due. L'ho visto, l'ho visto. Sono quattro di due. Si chiama? Embega e Begfallu. Si chiama Fallu. Si chiama, diciamo che Begfallu. Embega e Begfallu. Poi perché è stata asserta la nome Ansar? Perché non è Ansar come D'Akira? Eh. Allora, Serin Mamor è figlio di Siachmurtadà, quindi è nipote di Siachmurtadà. Siachmurtadà è quella che abbiamo parlato prima, è figlio di Serin Tuba che ha avuto il compito di divulgarci il suo messaggio. E lui dov'è a Tuba adesso? Nipote? Nipote a Tuba. Venite qua la stessa, ma una volta all'anno, ma a Tuba proprio, a Tuba. Ma viene qua in Italia qualche volta? Un anno, ogni anno, ogni anno venite qua. Fa tutto intorno, tutta l'Italia proprio. E poi lo fa come suo padre, va dei viaggi in tutto il mondo, negli Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, fa i turni proprio come suo padre faceva. che ha scelto il nome di Dair Ansar. Ma era una preghiera che si rintubò, chiedevo Dio di dargli le Ansar. Mi chiedevo Dio darmi le Ansar, che l'Occident e gli Stati Uniti, tutti diventano i miei Ansar. Ansar vuol dire che quelle che abitano nella fede giovane, quindi che fanno quello che spiegavano un po' perché è scelto il nome di Dair Ansar. Poi, come abbiamo spiegato, ci sono tante associazioni di Shiaqma do Bamba, di qua, che compostano dei talibi, dei senegalesi. Quelle si chiamano Daira, ma la differenza di Dair Ansar è che la Dair Ansar non sono gli senegalesi, sono gli italiani proprio. Sono gli italiani. Sono gli italiani. Quella è la differenza di Dair Ansar e le altre Dair di Shiaqma do Bamba, le altre associazioni, perché loro hanno un altro compito, quindi la Dair Ansar c'era un compito di creare una famiglia italiana, ma musulmane che non sono senegalesi, proprio per quello che spiegiamo un po' la differenza di Dair Ansar e di altri Dair. Sono molti italiani, convertiti, sì? Sì, 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 sono molti. Sì, 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 non è che tutti sono qua neanche. Ci sono arrivati alcuni che sono più membri attivi proprio. Ci sono degli italiani che sono convertiti, ma non lo conosciamo ancora. Quindi come questi contri qua, cerchiamo uno senegalese che conosco una italiana che è convertito e li facciamo contattare che è così che c'è la Daira. Ma non è che tutti italiani che sono... Perché alcuni non lo sanno. Alcuni magari sono convertiti, ma tramite le persone che non sanno neanche cos'è l'Islam. Quello è quello che fa male, però. O insegnano un Islam sbagliato. Ecco, quello è proprio peggio. Quello è proprio peggio. È un problema anche, perché sta succedendo tanto che è convertito nell'Islam, ma hanno preso un'altra via sbagliato proprio. Vanno in internet. Sì, sì, certo. Sai quanto è polemica. Complimenti per il lavoro che fa. Questo qua diciamo che l'Islam è la pace proprio. L'abbiamo sbagliato un po' di farecchietto qua, volevamo metterla qua, che l'Islam è la pace che vorrebbe essere. Quindi non è la pace, ma è la pace. L'Islam è proprio la pace. Che dicevamo... Sì, assalam. Sì, assalam. Come è il nome di... Dove veniva il nome? In arabo. Lo spieghiamo un po' Poi prendiamo un po' di versetti del Coran. Si pronuncia come quando chiamo e forti. Perché oggi si parla nell'Islam, l'Islam, l'Islam, l'Islam. Tutti pensano che l'Islam non è arrivato qua per distruggere il mondo. Quindi invece non è. Ma infatti parlano di Islam. Noi parliamo di Islam. È un'altra cosa. Come il nostro serenco dice che le persone che prendono il nome di Muhammad, quindi loro fanno tante cose che è vetato nella religione. ma dicono il nome di Muhammad. E dire è normale, infatti. Dicono Muhammad, ma noi ce l'abbiamo profeta Muhammad. Non è Muhammad, Muhammad. Come loro parlano in Islam. Sì, ma... Avevamo preso un po' di... Questo sono i hadithi? No. Non, questi qua sono i versetti del Coran. Ah, questi qua sono i hadith. Non ci sono i hadithi, ma non ci ho capito. Non ci sono i hadithi ma. che lui avranno un credo completo verso Allah, se non sape a cura, a cura, al prossimo, ciò che è agura, è successo. come questi versetti, al muslimo, aql muslim, la yeslimhu, wala yaqfuhu, wala yaqfiruhu. Gli tanti versetti che facciamo vedere che l'Islam proprio è la pace proprio. Gli prendiamo ogni anno di prendere un pilastro dell'Islam, oggi come quest'anno abbiamo preso la testimona dell'Islam, quindi la fede. Magari l'anno prossimo prendiamo la preghiera, di approfondire la sua storia, perché la preghiera, come si dobbiamo fare tutto. Perché questi contri qua approfittiamo di passarle un messaggio, magari se erano a casa non ce l'hanno il tempo di imparare, di concentrarci tutte le tante cose lì, ma se arrivano qua almeno le fanno un anno, ci vedono qualcosa, poi gli facciamo un piccolo libro per portare a casa. Bravi, bravi. Gli facciamo. Noi siamo molto contenti di continuare con la collaborazione, noi abbiamo già avuto altre occasioni in passato, siamo felici. Anche noi siamo felici, veramente, perché il nostro compito è questo, non è che fare diventare tutti i discepoli di Siamma di Bamba, ma tutti gli italiani che conoscono l'Islam e essere uniti proprio, di creare una famiglia italiana. Perché fra un po' noi, magari siamo senegalesi, se troviamo altri mezzi più stabili nel nostro paese, ma possiamo ritornare un domani nel nostro paese. Quindi poi quel lavoro lì, nelle mani di chi, poi non sappiamo. Quindi se gli italiani creano una famiglia musulmana, noi possiamo andare tranquillamente. Quindi l'importanza è conoscere l'Islam e basta. L'Islam che è il centro di tutto. Tutti cercano Dio proprio, la profeta Muhammad. Seguiamo, abbiamo il Corano lo stesso, è uno Corano, e il profeta è lui. Il lavoro che cerchiamo di fare anche noi, un po' come i musulmani italiani, da tanti anni, insomma. Cercare di far capire cos'è la religione anche, perché si è un po' dimenticato che cos'è la religione proprio. E non solo compri noi musulmani proprio, non è che i primi, noi che lo dobbiamo fare vedere loro. Cos'è l'Islam, ma non dobbiamo lassare quelli che non conoscono l'Islam, parlano sull'Islam nella loro opinione. L'Islam non è un'opinione che ognuno può parlare, è una religione che devi conoscere prima di parlarci. Ma come vediamo nelle televisioni, se parlano in calcio, prendono un esperto che sa proprio quella. Ma se parla nell'Islam, ognuno comunque può parlare sull'Islam. Quella è una sbagliata, è una sbagliata, grosso proprio. E' per questo che è importante la Lugiasa come autorizzazione di maestri e santi, che effettivamente garantisce proprio che chi abbia effettivamente una protezione che viene proprio da un insegnamento, da un accompagnamento nella via, sappia divulgare e realizzare oggi qui un messaggio che l'Islam porta, come la falsificazione e ricerca di Dio. Il problema è quando questo non si realizza, quando l'internet, i finti imam, persone che non conoscono l'Islam, non hanno un'autorizzazione dei maestri effettivi, invece si prendono una funzione di testimonianza che non gli appartiene. Quale che abbiamo un problema anche oggi nella comunità islamica, che non sono più unici, di avere un guido, come l'ha detto l'Ijaza, dei maestri, dei scecchi, ma noi siamo dispersi un po', le comunità musulmane. Il problema è dell'awakabismo, avete sentito che non credono più quanto la religione, discutono tante cose che la barba deve essere lunga, quello non è che ha tanta importanza, che fa diversi musulmani, ma la cosa, la base è cinque pilastri, che abbiamo e dobbiamo essere uniti. Poi, quello è diverso, ognuno ha come la sua opinione, ma se prendiamo l'opinione per fare di... Divergenti. Abbiamo questa facilità nel trovare l'essenziale, anche perché facciamo parte del Tasauf. E questo non è per tutti, ma non deve essere neanche per tutti. Però è bello che ci siano delle amicizie anche in Italia, tra turuk, e noi ci troviamo bene con voi, perché facciamo parte anche noi di una delle tante turuk dell'islam, quindi è bello che ci sia una collaborazione così. Perché il sofismo è l'unico, quindi... E' bravo, infatti. Non te l'hanno differenzi nel parametro loro. Suvi discepoli del profetto. Sì, sì, vedi. Eh sì, sì, no, va bene, bene. Noi sai che veniamo da Vicenza, c'è Top Niang. Vicenza. E fa parte del... Conosci, sì. Fa parte. E non so se arriva ancora. Top sta aspettando la nascita del terzo genito. Ah, ok. Terzo bambino. E' in ospedale. E poi possiamo comodarti di dire e seguiteli per avere. Grazie. Grazie mille.